Ciao mondo! Oggi sono tornata con un nuovo video e sono tornata finalmente con un mi preparo con voi finalmente da da tantissimo che non lo facevo in questo mi preparo con voi non mi sono concentrata molto sul trucco infatti è molto molto semplice anche perché devo uscire per poco quindi sono stata semplicissima, molto easy ma mi sono concentrata di più sul Cosmo Prof 2016 per chi non sapesse cos'è il Cosmo Prof è la fiera dell'estetica e della bellezza che si tiene tutti gli anni appunto in Italia a Bologna verso metà di marzo mentre è una fiera mondiale appunto ci sono anche altre città del mondo che la fanno però a noi tocca appunto Bologna e dovrebbe essere la 49esima edizione o la 50esima quindi giù di lì sono di quelle novità fantastiche come ho già detto nel video io e Fabiana saremo in fiera il 19 e il 20 ma saremo a Bologna dal 18 al 20 quindi se ci siete anche voi fatecelo sapere se siete di Bologna fatecelo sapere che possiamo vederci, possiamo incontrarci quindi senza parlare ancora vi lascio al tutorial tra virgolette perché non è un tutorial ma è un video appunto chiacchiericcio ciao! finalmente sono tornata a fare un mi preparo con voi mi mancava tantissimo questa tipologia di video e appunto finalmente credo che l'ultima volta che ho fatto un mi preparo con voi è stato per raccontarvi appunto della settimana del concerto di Tiziano Ferro dell'incontro di anima e tutte quelle cose lì visto che appunto devo uscire avevo un po' di tempo avevo un'oretta e ho approfittato di truccarmi con voi appunto per raccontarvi del Cosmoprof perché finalmente quest'anno andrò al Cosmoprof è una cosa fantastica cioè veramente è da un bel po' di anni che volevo andarci ma non riuscivo mai io c'era sempre qualcosa, qualche inconveniente quest'anno invece sono riuscita ad organizzarmi ho trovato la persona con cui andare e credo che persona più azzeccata di lei non ci possa essere cioè perché ci troviamo veramente bene insieme sto parlando di Fabiana ci siamo conosciute grazie a Youtube e veramente abbiamo tantissime cose in comune eccetera quindi abbiamo deciso di vederci per la prima volta e di andare al Cosmoprof insieme Fabiana sul suo canale ha già fatto un video riguardante il Cosmoprof che ovviamente vi invito a vedere perché è veramente bello mi piace tantissimo io l'avrò visto credo 5 volte perché mi piace tantissimo poi mi ha detto che è stra soddisfatta di quel video quindi ovviamente sarà in infobox io e Fabiana saremo al Cosmoprof in fiera il 19 e il 20 ma saremo a Bologna dal venerdì a parte che io non ho mai visto Bologna sono stra stra curiosa perché a me le città italiane piacciono tantissimo quindi se qualcuno è di Bologna me lo dica mi dica che cosa andare a visitare eccetera ovviamente se qualcuno di voi viene al Cosmoprof me lo dica me lo scriva su Instagram o su Twitter o anche come messaggio su Youtube eccetera comunque me lo scrivete ovviamente tutti i social sono giù in infobox se volete scrivermi se qualcuno viene al Cosmoprof me lo dica che magari ci incontriamo ci mettiamo d'accordo guarda magari nella pausa pranzo ci mettiamo in un angolino stiamo tutti insieme non lo so se vi va a me piacerebbe tantissimo e anche a Fabiana piace tantissimo questa cosa perché alla fine Youtube non è solo secondo me vedere video e commentare mettere like ma è anche creare rapporti con le persone che ti seguono e con le persone che segui ovviamente ovviamente ci terremo credo una sera per registrare un po' di video insieme la cosa più bella è fare un video con una persona che ha la tua stessa passione realmente cioè che potete essere lì fisicamente tutti e due a me piace tantissimo ho già qualche idea per il video per i video però se volete vedere qualcosa in particolare scrivetemelo pure nei commenti che se appunto ci piace come cosa la faremo quando invece del Cosmoprof come fiera ci sono tantissime cose che devo dirvi perché mi sono informata un po' ho trovato anche una lista su Beauty Idea che vi lascio giù in infobox con la marca e il padiglione soprattutto per gli appassionati del make up e della cura della pelle e dei capelli anche perché hai qualche padiglione anche dei capelli e appunto ci sono un casino di novità quest'anno un casino di cose nuove prima cosa tra tutte ci sarà attenzione Jeffree Star Cosmetics che per chi non conosce le tinte labbra di Jeffree Star sono delle tinte appunto pazze cioè sono di tutti i colori e opache e durano tantissimo e io a parte che seguo Jeffree Star da non so quanti anni credo ancora prima che uscisse la linea del suo del suo make up quindi lo seguo da tantissimo e forse ci sarà anche lui quindi se avrò l'opportunità di incontrare Jeffree Star sarò lì oh my god you are so amazing you are so wow tipo sarò lì così sono sicurissima perché lo adoro tantissimo e se vendono le tinte incrociamo le dita perché io voglio che le vendano perché io voglio Dirty Money non mi è mai piaciuto il verde come colore né per gli occhi né per le labbra ma Dirty Money tipo mi ha preso mi piacerebbe anche provare lo scrub che è appena uscito però adesso vediamo prima di tutto se vendono e poi vedrò cosa comprare prima di tutto però vorrei comprare una tinta perché sono strassera curiosa di provarli poi praticamente un altro marchio che dovrebbe essere se non sbaglio la prima volta che è al Cosmoprof è l'LA Splash e se non avete mai visto neanche quelle tinte labbra di LA Splash veramente vi consiglio di andare a vederle sono fantastiche c'è una collezione che è la collezione del giorno dei morti che ha delle tinte favolose ce n'è una che si chiama Catrina ed è praticamente una tinta metallizzata marrone però con dei riflessi verdi appunto metallizzati fantastico cioè è troppo 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 bello poi un altro stand che vende ed è fantastico è BB Cream Italia appunto il sito di BB Cream Italia dove possiamo trovare un casino ma un casino di marchi che appunto in Italia non ci sono e tutto quello che è presente sul sito di BB Cream Italia dovrebbe esserci anche al Cosmoprof e quindi possiamo trovare Milani io appunto ai blush e ai rossetti opachi di Milani perché veramente lo voglio provare assolutamente e le girl che voglio anche lì puntare alla tinta quella nel tubettino e se riesco anche a provare il correttore perché ho sentito che sono molto molto buoni come correttori poi c'è anche Real Techniques c'è anche Tangle Teaser ce ne sono veramente tantissime praticamente tutto quello che c'è sul sito appunto c'è anche nell'espositorio un'altra marca che sono stracuriosa di provare è Stargazer perché appunto la linea neon mi piace tantissimo vorrevo un rossetto appunto che si illuminasse dal buio poi un'altra marca che comunque sta portando anche adesso in Italia è la NYX che appunto ci sarà il suo espositore e soprattutto venderà da quest'anno è il primo anno che vende al Cosmoprof e soprattutto ancora soprattutto ci saranno tutte e tutte tutte le novità che usciranno nel mese di marzo aprile di NYX che arriveranno anche qua in Italia la si potranno vedere in anteprima e ci sono dei blush sfumati troppo belli delle nuove tinte troppo belle dei nuovi rossetti troppo belli dei nuovi soft matte lip cream troppo belli è tutto troppo bello sono stracuriosa di poter provare in anteprima alcuni prodotti di NYX ovviamente poi ci sarà anche Essence Catrice poi ci sarà Gosh che è una marca praticamente londinese se non sbaglio e in Italia appunto non c'è e sono stracuriosa di provarla anche perché ho sentito parlare bene non so se vende e quindi non posso dirvelo con certezza ma io spero di sì perché voglio assolutamente provare qualcosa di quella marca ci sarà anche Mesauda la Manic Panic Montagne Jeunesse sono buonissime le maschere sono curiosa anche di sapere se ci sono i nuovi pennelli quelli fatti simili la spazzola sono fantastici non mi ricordo di che marca sono ma mi piacciono tantissimo e visto che è una novità magari nel campo del make up eccetera anche perché per ora dovrebbero esserci solo di una marca e costano veramente tanto magari lì al Cosmoprof li fanno vedere in anteprima a me interessano tantissimo poi ci sarà finalmente anche per me la Wet n Wild che non sono mai riuscita a trovare nel mio paese finalmente devo comprare assolutamente se vende i rossetti Wet n Wild poi ci sarà anche la W7 e sono stra curiosa di provare anche quei prodotti perché appunto dovrebbero essere dupe abbastanza fedeli e abbastanza buoni di marchi veramente famosi perché ci sono anche palette simili Urban Decay in più ho visto che si può trovare anche Makeup Revolution però in teoria non dovrebbe vendere quindi non si sa ancora se vende o che cosa però dovrebbe esserci anche Makeup Revolution dovrebbe esserci anche su BB Cream Italia quindi qualcosa potremo acquistare da BB Cream Italia sono stra contenta che quest'anno riesco ad andare al Cosmoprof e riesco a realizzare questo mio desiderio appunto di andarci per le informazioni più specifiche del Cosmoprof appunto come dove trovare i biglietti dove comprarli quanto costano eccetera e dove si trova la fiera vi lascio giù il sito appunto della pagina di Beauty Idea che mi piace tantissimo perché è spiegato molto molto bene e c'è tutto quello che c'è da sapere e ve la lascio giù in infobox insieme a tutta la lista quindi mi raccomando scrivetemi appunto nei commenti se ci sarete anche voi che stand vi piacciono di più e tutti i consigli anche per Bologna se venite da Bologna mi raccomando commentate e appunto se ci siete scrivetemelo perché voglio vedervi voglio incontrarvi e possiamo stare lì almeno un'oretta mezz'oretta per mangiare insieme per stare un po' insieme come ho detto prima appunto io sarò in fiera il 19 e il 20 ma comunque io il 18 dovrei arrivare nel primo pomeriggio Fabiana arriva più tardi ma io arrivo appunto nel primo pomeriggio quindi possiamo vederci anche a Bologna fare un giro se siete in giro eccetera quindi mi raccomando se per voi questo video è stato utile e vi è piaciuto mettete un pollice in su ed iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video vi ricordo allora in infobox ci sarà il mondo praticamente c'è la lista delle informazioni principali per il Cosmo Prof del blog di Beauty Idea c'è la lista di tutti gli espositori principali da assolutamente da non perdere ci sono i miei social il mio Instagram il mio Twitter il mio Snapchat ci saranno anche lo Snapchat e Instagram di Fabiana appunto di Life is Fashion vi lascio anche il suo video nell'info box che ha fatto anche lei sul Cosmo Prof magari lei ha aggiunto qualcosa in più che io mi sono dimenticata molto probabilmente sarà così perché io mi sarò dimenticata talmente di quelle cose e se me ne sono dimenticata ve li lascio giù in infobox quindi dovete per forza passare in infobox e mi raccomando nei commenti lasciateci anche challenge o video o video di make up che volete che io e Fabiana facciamo assieme quindi io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione spero che il make up è molto semplice vi sia piaciuto che le informazioni vi siano state utili e vi mando un bacione ciao ciao